Mi hanno scritto Se i messaggi di Signal sono peer-to-peer, ci sono altri problemi di sicurezza. Telegram e WhatsApp funzionano seguendo il modello client-server. Alice invia un messaggio a Bob. Il messaggio viene prima inviato ad un server. Il server poi recapita il messaggio a Bob. Signal funziona secondo il modello peer-to-peer, da pari a pari. Il messaggio non transita da un server. Viene inviato dal cellulare di Alice al cellulare di Bob. Alice vuole che solo Bob sia in grado di leggere il suo messaggio. Signal risolve questo problema usando la criptografia end-to-end. Signal è meglio o peggio di Telegram o WhatsApp? WhatsApp è la migliore se vuoi comunicare con tutti, perché è l'app di messaggistica più usata in assoluto. Telegram è la migliore se vuoi usare bot, canali ed altre funzionalità avanzate. Signal è la migliore se hai bisogno di un alto grado di riservatezza. E tu quale preferisci? Fammelo sapere nei commenti. Al prossimo episodio